musica 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 qui ci sono 4 in moda, una luce a vero, due panni, riso a vero, i linguici la valletta? si inganzi la valletta niente, sta marcato i linguici, non lo lasciamo a capire, vado sempre orco il principio orco ma perchè non ne ha fammi? ma c'è la mannata svegliata ma c'è la mannata svegliata ma c'è la mannata svegliata no, che cazzata vai dietro, ancora dietro, scappa dietro che mannaggia a San Pedroia, che mannaggia, che mannaggia a San Pedroia mannaggia a San Pedroia, che mannaggia, che fulastro viste quello che ha dato svegliata l'azione che fulio, che fulio non vince, non vince non vince ma solo rigore città e... è rigore è rigore, è rigore è rigore l'onore per Roma nell'impatio il piede del numero 79 della Mina tu lo ha abbinato il fatto che è stato fallutato un non falloso da Kifi no, no che stava probabilmente discutendo con il direttore legato e va a vedere che fulia perché vedeva è un pochino di ferro in un momento se stiamo dormiti, stai il sito? mamma mia, che mannaggia come cazzo? come si fa, bro? come si fa, bro? eh, dai, ricordi eh, dai, ricordi ci tira la zampa, dai dai, boom dai, ricordi, si è pur vero che il moto è stato a spalle ma non lo sarà vista arrivare? eh, dai, ricordi dai, ricordi che ha deciso le cacce di arrivare per Milan cioè tre minuti di recupero, poi, quanti? ci saranno a dieci, ciao e quando? fa il culo fatta, nas, fa il culo dai, sta bella, non dica ci siamo dai, ho il culo dai, dai, mi ha detto dai, mi ha detto dai, papà hai detto che fuori, guarda ma andai a fuori i giochi la porta ma c'è il visto ma guarda l'uomo ma che cazzo guardi ma c'è il visto è la palla la capocia